Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò dove trovare la moneta d'oro in Fortnite per la settimana 4 del capitolo 2, per la stagione ovviamente 4. La moneta d'oro si trova alle Stark Industries, quindi qua in alto, non potete assolutamente sbagliarvi, qui dove c'era la fattoria frenetica. Dovete entrare nella struttura e vi informo già che probabilmente faticherete perché ci sono tantissimi giocatori. Io adesso sono in modalità creativa, così la zona è tranquilla e posso darvi la possibilità di vedere dov'è questa moneta. E salire ai piani alti, quindi dovete usare le scale e salire al piano alto. Potete anche atterrare direttamente lì alla fine, dove c'è qui il forziere, che adesso non c'è. Ah no, eccolo c'è, pensavo che non ci fosse. Quindi dovete andare qua, rompere l'ascensore e la moneta è qui dentro. Io adesso vi l'espessore e la moneta è qui. Grazie.